Siamo qua per la prima volta perché, come casa editrice, il nostro impegno è preso con Chiara Milano, che aveva portato un programma di conoscenza per essere stato per alcuni anni direttore di una rivista che faceva Chiara Milano quando era a Castaccia. Adesso è soltanto online. E abbiamo iniziato a presentare i libri della nostra casa editrice. Abbiamo iniziato a presentare un'occasione proprio con quello di ricordarti perché è il primo volume di una catena, di una collana che vogliamo avere l'intenzione di estendere e di continuare a comunicare opere di pittori affermati o di pittori in speranza di futuro. Grazie. 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 Grazie.